C'è una pagina che seguo su Instagram che si chiama Aforismi Psicologia che periodicamente pubblica delle frasi legate al mondo della psicologia, legate al mondo della comunicazione, al mondo della scienza. L'altro giorno mi ha colpito un aforismo di Albert Einstein che diceva così una persona che non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo ed è proprio da questa frase che vorrei partire per la puntata di oggi, vorrei parlare di che cos'è l'errore e soprattutto una volta che abbiamo scoperto la definizione di errore cercare di capire che cos'è un errore quando parliamo in pubblico, quando facciamo comunicazione e quanto ci può aiutare più in generale fare degli errori per crescere, per imparare a fare meglio quello che stavamo facendo. Mi appassiona molto quando cerco di raccontare una parola alle persone andarmi a cercare il significato etimologico cioè la radice, la storia proprio della parola. Errore viene dal latino errare. Errare vuol dire andare vagando. Avete presente la formula errare per i campi? Ecco andare vagando, andare senza avere una meta ben precisa e credo che questo sia molto importante perché possiamo vedere l'errore quando pensiamo di averne commesso uno magari all'interno di una presentazione in pubblico come un'occasione per esplorare delle vie. Errare, andare vagando, esploriamo delle vie e scopriamo dei percorsi nuovi e questa credo che sia una metafora molto potente per la nostra comunicazione. L'idea che l'errore non sia qualcosa di inaccettabile, che non sia qualcosa di inammissibile in comunicazione ma che sia anzi un'occasione per scoprire delle altre vie. Esiste nella psicologia tutto un ambito che si occupa proprio dell'apprendimento per errori cioè l'idea che noi apprendiamo attraverso gli errori che commettiamo quindi esploriamo l'ambiente, commettiamo degli errori e in base a questo apprendiamo delle nuove soluzioni per comportarci all'interno della realtà. Ce lo racconta la psicologia ma penso che più in generale possa essere davvero una massima di vita. Ce l'ha raccontata anche uno scienziato come Albert Einstein questa cosa. L'idea che non commettere un errore significa non provare nulla di nuovo credo che ci possa aiutare in questo senso. Quindi la prossima volta che all'interno di una presentazione faremo una piccola gaffa, un piccolo errore, una slide preparata male, una domanda a cui avremmo potuto forse rispondere in un'altra maniera, non lo sapremmo mai. Tutte queste situazioni che ci fanno concludere ho fatto un errore possiamo trasformarle in un ho fatto un errare cioè ho fatto un andare vagando cioè sono andato per delle strade inesplorate che magari però mi condurranno comunque a destinazione e magari rappresenteranno anche un modo per arrivarci prima e in maniera più efficace rispetto a quanto avevamo previsto.